Mercoledì 4 di marzo, bentornati e bentrovati. Pesanti condanne per la gang dei furti con Spaccata che nel marzo 2009 agiva nelle tabacchierie tra Senigallia, il Maceratese e l'Ascolano. Il Tribunale di Ancona ha inflitto 12 anni di carcere al 52enne Massimo Giuliani, accusato di aver promosso un'associazione per delinquere finalizzata a compiere furti anche con auto blindate e un furgone dotato di attrezzature per eludere le intercettazioni. Sei anni e sette mesi anche a Nicola Soccio, per altri due imputati gli atti sono stati rimessi al PM. Un uomo è stato trovato senza vita ieri sera attorno alle 22 nella sua abitazione lungo lo stradone Misa a Senigallia. A trovarlo sono stati alcuni familiari che rincasando lo hanno trovato che non dava più segni di vita, ha subito allertato il 118. I sanitari arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto anche la polizia. Senigallia, turismo, turismi. Vediamo. I percorsi e le strategie di sviluppo del settore turistico al centro dell'importante convegno Senigallia, turismo, turismi, promosso dall'amministrazione comunale in programma alla Rotonda a Mare. Le nostre risorse possono essere in grado di costruire delle offerte turistiche, dei prodotti turistici, meglio ancora delle esperienze turistiche adatte a soddisfare le esigenze molteplici del turismo mondiale. Che è un turismo in fortissima crescita, è un turismo che, contrariamente agli altri settori, non ha conosciuto una crisi. Anche l'Europa, che è sicuramente il continente che cresce più lentamente, cresce al 3-4%, quindi con dei valori molto più importanti del nostro PIL, è un bacino importante per la nostra regione e anche per la città di Senigallia. Sicuramente però bisogna fare degli sforzi per migliorare la qualità della nostra destinazione. Sicuramente bisogna fare grande attenzione alla questione della qualità delle strutture ricettive, la dimensione media organizzativa di questa struttura deve potenziata, bisognerebbe fare più attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e sociale per fare in modo poi che le nostre imprese siano anche imprese competitive. L'enogastronomia senigalliese si arricchisce di una nuova eccellenza, l'Accademia del Pesce Azzurro, costituitasi formalmente nel 2014 e presieduta dal Cavaliere Giorgio Sartini, ha scelto Senigallia quale sua sede. L'Accademia si propone di promuovere un'attività di ricerca multidisciplinaria attraverso la riscoperta delle proprietà nutrizionali del pesce azzurro e della cultura culinaria tradizionale delle località marinare marchigiane. La sede dell'Accademia del Pesce Azzurro si trova in via Montegrappa 3 a Senigallia. I dati Istat sul lavoro femminile nel 2014. Vediamo. Riparte l'occupazione nelle Marche. In un anno, tra dicembre 2013 e dicembre 2014, i marchigiani con un posto di lavoro salgono da 600.000 a 624.000 con un saldo positivo di 24.000 unità. Tra i disoccupati le donne sono ancora in maggioranza ma calano più degli uomini, 40.214 rispetto alle 44.827 di un anno fa. Nel sistema produttivo marchigiano le donne rappresentano ancora il 22,6% dei titolari di impresa, quindi è una percentuale sostanzialmente non altissima, anche perché le donne continuano oggettivamente ad affrontare difficoltà superiori rispetto ai loro colleghi maschi. Le imprese femminili tra il 2013 e il 2014 dirette dalle donne sono diminuite di 2.804 unità, passando da 42.603 a 39.799. Quindi c'è oggettivamente un calo e questo lo possiamo imputare sicuramente a una difficoltà nella conciliazione dei tempi ma anche in una difficoltà di accesso al credito. Queste sono le cause principali che oggi determinano, per quello che riguarda il numero di imprese, una superiorità di imprese maschili rispetto alle imprese femminili. Giovedì 5 di marzo, l'auditorium di San Rocco, alle 21 il Movimento 5 Stelle presenterà la cittadinanza Giovanni Maggi, candidato alla presidenza della Regione Marche. E a lui e a una qualificata lista di candidati consiglieri all'Assemblea regionale che il Movimento 5 Stelle affida il compito di raddrizzare la rotta di un'istituzione che al presente è costituita da un gran numero di indagati per spese anomale, coi denari dei cittadini. Terminiamo con una notizia di sport. Al torneo regionale di domenica scorsa, al centro olimpico di Senigallia, erano presenti tutte le società della Regione che hanno sede anche nelle cinque province. Senigallia e Sant'Elpidio hanno vinto l'individuale maschile riportando indietro le lacette l'entempo quando la rivalità tra le due città era accesissima. Grazie a tutti per averci seguito, il Tg termina qua, l'appuntamento è per domani.